La situazione cosciente inalatoria consiste nel far respirare al paziente una miscela di gas a base di ossigeno e protossido d'azoto attraverso questa mascherina che si appoggia sul naso e nel giro di un paio di minuti induce una sensazione di benessere e di rilassamento e il paziente inoltre non avrà la sensazione dello scorrere del tempo durante il trattamento dottoriatico. Questo permette di trattare pazienti ansiosi, fobici o non collaboranti e pazienti in età pediatrica, i bambini. Una volta rimossa la mascherina svaniranno tutti gli effetti della sedazione e il paziente potrà tornare alle sue attività quotidiane. Grazie a tutti! Grazie a tutti!